Ciao a tutti ragazzi, tutto quello che serve per montare questo quadro sono praticamente quattro magnetotermici da 10A, un magnetotermico differenziale C16 generale 32A, differenziale puro 40A, magnetotermico C25 e 6 magnetotermici C16, guia per quello che riguarda il cacciavite dinamometrico, forbice Nipex e crimpatrice Nipex. Trovate tutti i link dell'attrezzatura che vedete in descrizione. 32A come generale quadro, differenziale magnetotermico C16, questo sarà il sottogenerale della mia linea luci. Forza motrice, questo è un 40A, differenziale puro di tipo F, che andrà a fare praticamente il sottogenerale della linea della forza motrice ed è collegato direttamente a questo magnetotermico generale. La linea della forza motrice viene divisa in piastra di induzione 25A magnetotermico e poi 6 magnetotermici da 16A. 16A. Per fare il collegamento fra questo magnetotermico che è il generale e queste due linee rappresentate dal differenziale puro e dal magnetotermico differenziale da 16A, questa è la linea che va a alimentare la forza motrice, questa è la linea che va a alimentare le luci. Mi sono andato già a preparare questo spezzone di cavo che è circa lungo una trentina di centimetri, fase neutro da 6 mm quadri con puntalini capicorda singoli e doppi, sempre quindi 2x6 mm quadri e 6 mm quadri. Tolgo per ora il differenziale puro e vado a mettere fase neutro, neutro sempre a destra, fase a sinistra o almeno questo è quello che viene indicato sugli interruttori dell'Igay. Potrebbero esserci interruttori dove per esempio la fase è a sinistra e neutro a destra. Voi seguite le indicazioni chiaramente degli interruttori. Come vedete nell'Igay il neutro è sempre a destra. Quindi questo capicorda doppio neutro va inserito all'interno del morsetto del neutro e si può andare a stringere. Stessa cosa facciamo con il capicorda doppio della fase, lo mettiamo nel morsetto della fase e andiamo a stringere. Io chiaramente questi li ho dimensionati esattamente per la distanza che c'è fra questi due interruttori, quindi andrò a inserire il neutro nel morsetto del neutro e la fase nel morsetto della fase. Andiamo a inserire il differenziale puro sulla guida DIN. Appena si è incastrato andiamo a bloccarla, si usa la leva sottostante. Ecco, in questo modo è bloccata. Adesso andiamo a fare il serraggio dei morsetti. Ecco, qui abbiamo ultimato il collegamento del generale al differenziale puro della linea motrice. Questa fase e questo neutro invece andiamo a collegarle nella parte superiore di di questo magnetotermico differenziale che poi andrà a fare, diciamo, da sotto generale per la linea delle luci. Facciamo passare i fili sotto la guida DIN e andiamo a effettuare il collegamento. Prendiamo la fase, lo inseriamo nel morsetto della fase e andiamo a stringere. Neutro nel morsetto del neutro e andiamo a stringere. Ecco, in questo modo abbiamo portato attenzione alla parte alta del sottogenerale differenziale puro della linea motrice e al sottogenerale magnetotermico differenziale da 16A della linea delle luci. Quindi ora dobbiamo portare tensione dalla parte bassa di questo differenziale puro alla parte alta di questo magnetotermico C25. Per fare questo collegamento io mi sono già preparato uno spezzone sempre circa di 30 cm fase a neutro da 6 mm quadri, sempre con puntalini capicorda. Mi raccomando, sempre fase a sinistra e neutro a destra. Ora portiamo queste due cordine che escono da questo differenziale puro dietro alla guida DIN e andiamo a fare il collegamento sulla parte alta di questo magnetotermico C25. Neutro a destra e fase a sinistra. Ora abbiamo portato tensione nella parte alta di questo magnetotermico. Questo magnetotermico svolgerà due funzioni. Andrà a gestire la linea della piastra d'induzione e porterà, diciamo, tensione anche a questa fila di magnetotermici. Per portare tensione da questo magnetotermico a questo magnetotermico, che poi trasferirà tensione a tutti gli altri, utilizzerò queste cordine che mi sono già preparato, sempre di una trentina di centimetri, con puntalino da una parte capicorda 6x2 mm quadri. Stessa cosa, chiaramente, per la fase. Il collegamento lo andremo a fare con questi pettini, in questo caso, che sono stati tagliati con precisione a 6 denti. Se vedete, io ho lasciato un bordo di circa un centimetro dalla parte e dall'altra per non avere questa parte in tensione o scoperta. Questi sono dei pettini estremamente economici, ma estremamente funzionari. Vi metto, come sempre, il link in descrizione. Andate già a sagomare le curve della vostra cordina, perché così non andrete a sforzare la guaina del puntalino capicorda che sarà già stata inserita all'interno del vostro magnetotermico. Stessa cosa facciamo anche per questo. Basta dargli una curva, poi non ha importanza se è più o meno precisa. Quindi andiamo a fare prima il collegamento del neutro e andiamo a stringere. Passiamo tutto sotto alla guida DIN. Stessa cosa facciamo per la fase. Adesso vado a portare tensione nella parte alta di questo magnetotermico da 16 A. Ricordandomi sempre che il neutro è quello a destra. Uso questa curva, inserisco il neutro nel morsetto del neutro di questo magnetotermico. Contemporaneamente vado ad inserire il pettine nel morsetto, facendo attenzione che tutti i morsetti siano ben allargati e poi posso andare a stringere, facendo attenzione schiacciando bene questa cordina, questo filo all'interno del morsetto per evitare che possa uscire mentre vado a fare il serraggio. Una volta che ho stretto il primo morsetto vado a stringermi tutti gli altri, sempre tenendo ben schiacciata la barra del pettine. Adesso vado a fare la stessa cosa con la fase. Creo la curva, la inserisco nel morsetto e poi inserisco il relativo morsetto della fase. Schiaccio tutto e vado a serrare il morsetto. L'operazione di serraggio deve essere fatta davvero molto bene perché sono due materiali differenti, uno è un filo, l'altro è una barra di rame, quindi vanno schiacciati per bene e poi vado a stringere tutti gli altri. Sempre tenendo schiacciato il pettine sulla fila dei magnetotermici. Ecco, a questo punto abbiamo fatto la predisposizione per portare tensione sia ad una eventuale linea per la piastra induzione da 6 mm quadri che ha tutti questi magnetotermici che poi andranno a gestire tutte quante le linee del mio appartamento, quelle della forza motrice, rispettivamente forno, lavastoviglie, prese della cucina, quelle generiche del piano, prese di tutto il resto della casa, lavanderia e frigorifero. Il frigorifero è importante che abbia una sua linea dedicata. Quindi la parte della linea motrice è terminata. Stessa identica operazione andiamo a fare per collegare questo magnetotermico differenziale a questo primo magnetotermico che poi con questi pettini invece da quattro denti distribuirà attenzione a tutto il resto dei magnetotermici. Anche qui mi sono già preparato due spezzoni sempre di una trentina di centimetri di cordine da 6 mm quadri con puntalini capicorda da un lato, nessun puntalino dall'altro. Vado a collegarmi i puntalini capicorda rispettivamente nel neutro, li faccio prima passare da sotto la guida d'in e poi vado a fare i collegamenti. Neutro nel morsetto del neutro e la fase nel morsetto della fase. Prendo il filo del neutro e lo vado a inserire nel morsetto del neutro di questo magnetotermico del 10A e vado a inserire il pettine. Tenendo sempre schiacciato il filo vado a stringere tutti quanti i morsetti. Prendo il filo di fase, lo metto nel morsetto della fase e poi prendo il pettine della fase e poi vado a serrare i morsetti schiacciando sempre la fase in modo che non esca dal morsetto. L'ultima cosa che andrò a fare è collegare la mia linea montante che verrà direttamente dal magnetotermico che fa da protezione alla mia linea montante a valle del contatore. Magnetotermico 32A, potere interruzione 4500A per quello che c'è nel cortocircuito, questi sono tutti interruttori 1P più N, l'unico a essere 2P è il differenziale ma solo un caso. Il 1P più N va assolutamente bene per una monofase, per un impianto in monofase come questo, quindi fase più neutro. Allora, dalla parte alta si va a collegare la linea che poi dovrà essere il vostro installatore a decidere quale, a seconda della caduta di tensione, a seconda del vostro contratto di fornitura, a seconda della distanza che c'è tra il quadro elettrico e il contatore dell'Enel. Ricordate che secondo la norma CEI 021 dell'aprile 2022 è necessario proteggere la linea montante con un magnetotermico con potere di interruzione 6000A. Questo è un 4500A perché io presuppongo che a monte ci sia un altro magnetotermico a 32A soltanto da 6000A di potere di interruzione. Allora, quindi dalla parte bassa del magnetotermico escono due linee, ovvero due fasi e due neutri. La prima fase e il primo neutro alimentano questo differenziale puro che va a gestire poi tutta quanta la linea motrice. La seconda fase e il secondo neutro vanno a portare tensione a questo magnetotermico differenziale che invece gestisce la linea delle luci. Quindi queste sono due linee separate e indipendenti, il che significa che solo se c'è un problema sul generale va via la luce e va via la tensione alle prese. Se succede un problema sulla linea delle prese di qualsiasi tipo, la linea delle luci resta comunque attiva. Allora, da questo differenziale puro, esso è praticamente fase neutro che vanno ad alimentare questo magnetotermico da 25A. Questo è un 4500A di potere di interruzione che svolge due funzioni. La prima è quella di fare da, diciamo, generale della forza motrice, quindi gestisce tutti questi interruttori. Quindi se io vado a staccare questo interruttore, tutti questi interruttori non hanno più alimentazione. Inoltre questo gestisce direttamente una eventuale linea verso una piastra induzione. Infatti qui sotto ci sono due puntalini capicorda, l'abbiamo visto prima, da 6 mm quadri per 2 con doppio collegamento. L'altra fase e l'altro neutro vanno a collegarsi nella parte superiore di questo magnetotermico da 10A che poi attraverso questi due pettini porta alimentazione a tutti gli altri 5 magnetotermici. Questi sono 6 magnetotermici, da 16A, potere di interruzione 4500A e sono tutti quanti magnetotermici di questo quadro in curva C. Poi attraverso questi due pettini la tensione arriva e si distribuisce a tutte le parti superiori di questi magnetotermici. Questi magnetotermici poi andranno a gestire le singole linee. Per quanto riguarda invece la protezione differenziale ci pensa il differenziale puro di tipo F. Questo differenziale puro di tipo F, che sappiamo tutti non è protetto dalle sovracorrenti, riceve la sua protezione dal fatto che c'è a monte un magnetotermico da 32A, quindi con corrente nominale inferiore. Da questo magnetotermico andremo a vedere la seconda linea, fase e neutro fanno tutto il giro e arrivano nella parte superiore di questo magnetotermico differenziale da 16A. Questo è un curva C, 30 mA di soglia di intervento per le correnti di dispersione ed è un tipo A. Questo è ottimo perché mi fa le protezioni sia sulle correnti sinusoidali che su quelle pulsanti unidirezionali. Da qui sotto esce fase e neutro che fanno tutto il giro, arrivano qua dietro e vanno a collegarsi nella parte superiore di questo primo magnetotermico da 10A. Questo magnetotermico da 10A poi attraverso questi due pettini porta tensione a tutti gli altri tre magnetotermici sempre da 10A. Un buon quadro per un piccolo appartamento con un'ottima protezione differenziale e con un'ottima suddivisione delle singole linee. Qui abbiamo addirittura 11 linee separate. Come vedete io ho già lasciato lo spazio per un'eventuale installazione di uno scaricatore di sovrattenzione. Dovrebbero arrivarmi nel pomeriggio, quindi il tempo di studiarmeli e poi arriverà il prossimo video. L'ultima cosa che andiamo a fare è il collegamento della linea montante, semplicemente fase e neutro che andranno posti nella parte superiore di questo magnetotermico con relativi puntalini capicorda da 10 mm. Ecco il quadro praticamente è pronto. Può essere già utilizzato una volta che sia stato collegato alla tensione, manca soltanto il colgamento della messa a terra, ma questo lo andiamo a vedere in un prossimo video.